She got eyes like a wolf and a soul that shines Benvenuti su Star Radio e più veloci della luce Chi li parla è l'uomo radio L'unico DJ dell'unica radio senza frequenze che potete ascoltare ovunque ci sia io E benvenuti alla trasmissione Appuntamento con il Destino in onda per voi e solo per voi tutte le notti fino alla fine del mondo è un viaggio all'interno delle vite e della musica degli ultimi miti contemporanei forse gli ultimi che ci hanno lasciato qualcosa Loro ci hanno lasciato anche le penne devo dire ma la musica che hanno lasciato e le parole che hanno scritto sono qualcosa che ci attraversa ancora oggi vecchie e nuove generazioni è la storia di quest'uomo che fanaticamente si immerge all'interno di questo Club 27 sono tutti morti a 27 anni lui ha perso il treno e cerca di capire come rientrarci in questo treno e chi viene a vedere lo spettacolo naturalmente capirà che cosa significa entrare o restare fuori dal Club e chi viene a vedere lo spettacolo e chi viene a vedere lo spettacolo e chi viene a vedere lo spettacolo lo spettacolo